Magari, 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 lui sì che sarebbe un grande nome, già soltanto a nominarlo mi gasa tanto, mi esalta tanto, di chi sto parlando ovviamente del nuovo nome che tiene banco in attacco a Roma Sponda Giallorossa per quanto riguarda ovviamente il mercato, ovvero Zaha esterno del Palace, del Crystal Palace, 30 anni profilo che a me piace moltissimo, in scadenza il prossimo anno, e magari vederlo con questa maglia nuova e non questa qua di 30 anni fa, ma magari vederlo con la maglia giallorossa, perché? Perché per tanti motivi, ora comunque è un discorso ampio anche per quanto riguarda le cessioni, si parla di due uscite, Zagnolo, non Zagnolo, alcuni esuberi, parliamone, però prima di farlo è molto importante, iscrivetevi, like e commento qui sotto e scaricate anche OneFootball, primo link in bio, OneFootball app calcistica che vi permette di essere sempre, costantemente aggiornati su ogni cosa che riguarda il calcio italiano e non solo Roma e non solo anche se volete essere aggiornati per il fantacalcio, le formazioni, le statistiche o comunque qualsiasi colpo, novità, scaricatela gratuitamente passando dal link che trovate qui sotto in descrizione. Detto ciò, allora, Za, grande nome secondo me, veramente un grande nome, cifre non troppo alte perché come detto fra un anno sarà svincolato e al momento non si parla di rinnovo col Crystal Palace, la valutazione è intorno ai 25-30 milioni, la Roma pare abbia fatto già una prima offerta di 15 più Felix o di 15 più Volpato, francamente io preferisco dar via Felix, ma essendo che Felix una settimanella fa rinnovato ho qualche dubbio in più perché comunque o è un rinnovo strategico per mandarlo via e magari fare alzare un po' il valore, oppure non lo so, però comunque diciamo Volpato ha la luce anche dell'ottima, ma non soltanto di quella partita fatta ieri, lo vorrei tenere. Za è un nome che comunque a me piace, è un esterno che sa segnare al vizietto del gol, sa fare anche molti assist, è molto veloce, poi certo alcuni ora saranno contenti perché su FIFA è buggato, ma tralasciando FIFA è veramente un grande giocatore per la Roma, col Palace che è una squadra veramente anonima in Premier, ha fatto 14 gol lo scorso anno da esterno a sinistra, può giocare tranquillamente anche come seconda punta e quindi tatticamente è perfetto, perché? Perché se la Roma dovesse giocare col 4-2-3-1 lui andrebbe logicamente a ricoprire il ruolo di esterno-sinistro, senza se e senza ma, titolare, ma in questo caso secondo me ne servirebbero due di esterni forti, uno che spero sia Zagnolo ancora, io me lo auguro ovviamente, spero che non vada via, ma se dovesse andare via, ok Zaha, molto molto bene, ma servirebbe anche un altro esterno che possa quindi poi giocare a destra, sarebbe una tre quarti perfetta, Pellegrini centrale, dietro ad Abram tutte e tre, è Pellegrini al centro, a destra Zagnolo, a sinistra Zaha, sarebbe tantissima roba, se invece comunque si dovesse giocare, ed è possibile anche se alcuni indizi dati ieri fanno pensare, comunque fanno presagire il contrario, se si dovesse giocare a tre dietro, quindi comunque con tre attaccanti di fatto, penso che Zaha potrebbe giocare benissimo a fianco ad Abram, davanti a Pellegrini, quindi comunque tatticamente calza a pennello con le due possibili rome di Murino di quest'anno, però vi ripeto, ovviamente, se parte Zagnolo, io non mi accontento di avere soltanto Zaha, ma non per un fattore tecnico, tattico e molto forte, ma quanto per un fattore numerico, se si gioca poi, appunto, con tre trequartisti, ne serve un altro, ovviamente, che può essere un Guedes, ma uno, io ne pretendo, uno di livello Zaha, il rapporto qualità-prezzo sarebbe ottimo, appunto, in virtù del contratto in scadenza il prossimo anno, servirebbe, però, prima fare, optare, comunque, avere due uscite, fare due cessioni per la Roma, che potrebbero essere Kluivert e Carles Perez, Carles Perez ormai sta diventando una telenovela clamorosa, si parlava già un mese e mezzo fa del Valencia di Gattuso, ma ad oggi zero carbonella, Kluivert, invece, era praticamente dato come un partente certo, invece, adesso è in ritiro, anche ieri, Coltrastevere ha giocato, certo, non è nel progetto, ma per Kluivert, se non dovessero arrivare offerte, potrebbe anche clamorosamente prospettarsi un anno con Murigno, io, non è che sia così tanto entusiasta Kluivert, io riponevo grandissima fiducia in lui e, secondo me, come quarto-quinto ci può anche stare, purché sia un quarto-quinto, quindi, ne servono, comunque, servono due titolari forti, la mia coppia perfetta, la mia coppa preferita, coppa, la mia coppa preferita, anche l'Europa League non sarebbe male, detto francamente, ma la mia coppia preferita sarebbe Zagnolo a destra e Zaa a sinistra, Zaa veramente, magari, esterno, veloce, dotato di grandissima gamba, sa fare i dribbling, sa segnare molto bene, vi ripeto, al fiuto del gol, poi, è vero, alcuni suoi detrattori, chi lo critica, evidenzia un fallimento, un flop totale quando ha fatto il grande salto, perché lui, 3-4, un po' di più, diversi anni fa, che so di, 8 anni fa, ha fatto il grande salto ed è andato al Manchester United e lì ha fallito, ha fatto malissimo, ma voi ditemi, un giocatore che in quegli anni, dopo Ferguson, è andato lì, in quel di Manchester, sponda rossa e non abbia fatto male, io veramente non me ne ricordo uno, anche i più forti, anche, che ne so, Pogba va lì e floppa, Lukaku va lì e sicuramente non rende come le aspettative imponessero, Depay, ma veramente, 3.500 esempi, chi più napi ne metta, tutti i tersini che prendono, Bambi Saka, Shaw, anche Smalling ha fatto male, comunque, da capitano declassato, mandato via, dei lì, un sacco di giocatori che vanno lì e puntualmente floppano, nonostante le aspettative fossero veramente altissime, Fred dello Shakhtar, ma veramente una miriade di esempi di giocatori che allo United si rovinano, quindi, secondo me, Zaha, che ha fatto male, un anno al Manchester, neanche fa tanto testo, è vero, l'unica grande esperienza non ha reso come, appunto, ci si aspettava, ma era giovane, adesso ha 30 anni, è maturo e, secondo me, sarebbe il colpo perfetto, non per vincere dopo Mourinho, ma per vincere con Mourinho, perché, secondo me, Mourinho, avendo un progetto triennale, punta sia a costruire una squadra che possa crescere, ma anche che possa essere forte ora, non fra 3-4 anni, Mourinho non è uno Spalletti, Mourinho è uno che ha vinto neanche troppo poco, diciamola così, e quindi punta a vincere, lo scorso anno ha vinto, ha cominciato un progetto, quest'anno vincere comunque lo Scudetto è un'impresa praticamente impossibile, ma l'Europa League si può fare, l'Europa League si può vincere, non siamo ancora i favoriti perché non si sa chi scenderà poi dalla Champions, ma l'Europa League si può vincere e il progetto è quello, e per vincere serve gente esperta, serve gente matura, collaudata, serve gente che sappia il fatto suo, poi certo, vanno benissimo gli nesti che so, a Las Villar, ok, ci sta, ma servono i Matic, servono i Zaa, servono giocatori pronti, già belli e fatti, che possano dare subito qualcosa alla Roma, Zaa ben venga, uno così io lo vorrei sempre in squadra, ma veramente sempre, e credo la Premier è un campionato molto più competitivo comunque della Serie A, basti pensare a Lukaku, in Serie A il re comunque del campionato, un bomber pazzesco e secondo me lo tornerà anche adesso in Premier col Chelsea, ha fatto ridere, quindi comunque credo che allo stesso modo uno Zaa, ma anche che ne so, Abram, Abram in Inghilterra ha fatto benino con Lampard, ma poi praticamente uno scarto e in Serie A fa benissimo, Tomori giocava prima al Derby County, poi al Chelsea poco spazio, in Serie A un fenomeno, Smalling, uno scarto del Manchester, in Serie A un difensore fenomenale, quindi credo che anche lui allo stesso modo possa fare veramente benissimo, in Serie A uno così in Serie A spacca, apre in due le difese, ora però tocca a voi, mi raccomando, scrivete qui sotto anche il vostro parere a riguardo, lasciate un sacco di like e scaricate OneFootball, Ciao a tutti e sempre Forza Roma, da ieri!